a cosa stai pensando faccio quello che faccio grazie a mio padre lui era un eroe ha sacrificato la sua vita per il sapere controllo avete ricevuto passo è un inferno lì fuori incendi ovunque aerei che si schiantano lo chiamano il picco maggiore abbiamo delle informazioni classificate che puoi dirci del progetto Lima? l'obiettivo era cercare vita extraterrestre e intelligente la nave scomparve circa 16 anni dopo l'inizio della missione e chi era il comandante? era mio padre signore potrebbe essere uno shock per lei suo padre faceva esperimenti con del materiale classificato che poteva compromettere il nostro intero sistema solare distruggendo ogni forma di vita contiamo su di lei per scoprire cosa sta succedendo sono preoccupata per te ti amo iniziamo la sua valutazione psicologica descrive il suo attuale stato mentale ed emotivo nel miglior modo possibile sto bene pronto a fare il mio lavoro al meglio delle mie capacità ribadisco il mio fermo impegno a completare la missione secondo le regole se necessario distruggerò il progetto nella sua totalità la terra sperava in lui ed ora è tutto nelle mie mani abbiamo un lavoro da fare sei pronto 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 ciao 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 ciao